c'è un mistero a bagnacavallo signora parodi mi può aiutare perché io guardo sempre il tenente seridan ma non c'è più da noi viene dopo e poi adesso è uscito di non è italiano non è italiano non è italiano ha fatto psico psycho è arrivato la settimana scorsa siamo in italia l'italia ci devono adattare allora io volevo fare una domanda alla signora parodi cosa c'entra con hitchcock c'entra perché c'è un giallo c'è un giallo a bagnacavallo però legato al cibo al mangiare quanti mesi possono stare le cozze nel frigo il frigo il congelatore non li vendono a bagnacavallo quanti giorni possono fare addirittura mesi dopo un po van via da sole le dico perché la miriam gli ha chiamato spegnete la televisione l'hanno chiamata la sua cugina l'ha chiamata la miriam che è cugina lei lo sa signora parodi dicono ah sono qua posso venire a mangiare sono con mio marito cosa fa lei malvolentieri ha guardato il frigo non c'era niente nel frigo poi ha visto nella penombra in fondo c'era una macchia scura dici sono le cose di maggio che l'ho messa la settimana scorsa si dice maggio e mago li ha viste ha detto a chissà come sono perché si mantengono il frigo che si vendono ci sempre le bugie dopo lei ha chiamato il marito victor che è un gramma non ha mai voglia di fare niente sempre di cattivo umore come paolo antonio un po ecco un po meglio perché lei è imbattibile e dopo insomma dice ma fai una cosa lui è strascicato scammina per casa ma perché non assaggi una cosa per capire se potevano operare se potevano adattarsi alla cena alla cucina che arrivava la miria col marito questo victor insomma lui prende sta cosa non ha un gran sapore ma con uno non capisci niente prendere delle altre e lui ha cambiato un po colore dopo alla diciottesima non si apriva la mandibola non si apriva la mandibola no lei dopo c'ha un modo gli metti uno spillo qui e lui dopo la fa e glielo le mette dentro questa volta ma è stato strano perché ha fatto una faccia era tutto tirato ringiovanito ringiovanito poi di botta si è sentito un rumore quando c'è lo sgorgo del lavandino come con l'idraulico e poi si è messa sulla poltrona ha detto ha detto lei victor victor non si è mosso hanno fatto effetto le cozze ecco allora dopo ma lei lo ha curato no ha curato 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 ha provato ah sì ha dato dei medicinali mamma mia no io gli ho detto gli ho messo una coperta sopra poi io lo so come si fa da noi si tagliano due limoni e l'ho disinfettato con limone gli ho dato una bella disinfestazione gli ho curato il naso la bocca all'aprivo glielo ho buttato dentro e victor come sta e anche i chiodi di garota adesso come sta victor allora victor non si è più azzato però quando è arrivata la miriam col marito non si è accorta di niente abbiamo mangiato gli ha dato i sofficini no perché tanto le ha mangiate tutte le confie ascolti poverino è destino lei ci dica saranno state le cose oppure eri indisposto o era il destino perché lui la mattina era le cozze o era il destino è difficile capirlo è un mistero lui io gli ho dato anche per digerire lo strutto montata neve con i pinoli il porcospino basta così